Ben trovati dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, domenica 29 agosto la 28esima giornata, la seconda dopo il rientro di domenica scorsa e soprattutto lo stop che ha visto riposare gli atleti di stanza a Siracusa. Un programma che offre 5 competizioni con partenza alle ore 19.15, il premio Vittorio Gasman per delle competizioni che sono intitolate a grandi attori e vedremo chi si farà allora. Grande protagonista, la corsa più dotata al Montepremi è la quarta, 9.900 euro per il premio Nino Manfredi, un handicap sui 1300 metri di pista sabbia, così come in sabbia saranno tutte le competizioni della giornata. Andiamo allora col premio Vittorio Gasman, andiamo a leggerci il campo partenti, è una vendere, doppio chilometro in pista sabbia per la prima competizione che verrà affrontata da cavalli con 4 anni e oltre. Non c'è nessun 3 anni in questo campo partenti, apre il numero 1 di Canoening, è un neoacquisto della scuderia Cuschieri, un cavallo forse non prontissimo dicono dalla scuderia, ma di grandi mezzi di grande qualità e che in questo contesto potrebbe comunque mettersi in luce. Attenzione anche ad Empeducle che rientra con buone prospettive su una competizione che potrebbe piacergli parecchio, grande fiducia da parte di Enzo Guerrieri che sentiremo a brevissimo. Final Battle può essere la sorpresa, dal 2020 fermo, riparte, vedremo appunto come si ritroverà in pista. Quindi ha provato Siracusa con un sesto posto il 18 luglio, Muralab, senza azione poi è un'altra valida alternativa, fermato a giugno, se ben recuperato è un atteso protagonista. E attenzione anche a Tell William, un cavallo di grande qualità, ha chiuso bene la prima parte della pausa estiva proprio sul tracciato in sabbia, 1800 metri con una terza posizione. È quasi una semicondizionata, dicono giù in scuderia, questa competizione. Noi apriamo con Enzo Guerrieri che rientra la settimana scorsa, non aveva cavalli in corsa, quindi oltre a salutare ci dice come ha affrontato questo periodo di stop. Intanto voglio salutare tutti gli amici in ascolto perché rientriamo. Io nella prima giornata non ho corso, non ho avuto cavalli, per la seconda voglio salutare tutti quanti che ci ascoltano. Come è stato questo stop e i cavalli come stanno? Abbiamo dato un attimo di riposo, 15 giorni, almeno questi 15 giorni li abbiamo riposati, li abbiamo passeggiati a mano, gli abbiamo fatto qualche trattamento così di curativo, però tutto bene. E allora si rientra con quale prospettiva? La prospettiva è quella che uno al cavallo lo vede che caloppa bene, poi le corse sono quelle che decidono il tutto, lo sai benissimo. Guardiamo da Empedocle. E Empedocle, sì ha finito bene, ha corso con 67 kg, è quarto e ha avuto anche un impedimento, comunque tutto bene. Nella Vendoruccio dovrebbe essere il favorito, però c'è Tewillians che è un altro cavallo buono che sicuramente ci darà filo da torce. Insieme a una terza alternativa? Secondo me, fino al battle, oppure sensazione poi. Andiamo alla seconda corsa, partirà alle 19.50 il premio Ugo Tognazzi, ancora una vendere sui 1800 metri, piuttosto qualitativo il campo partenti di questi cavalli di tre anni al via. Apre capellone, deglassato e non può solo che correre benissimo in questo contesto. Dr. Crazy è esordito con due corse maggio e aprile di quest'anno, senza troppo lasciare intendere le sue capacità che comunque vengono stimate giù in scuderia. Subito è rientrato domenica scorsa con una seconda posizione flash mob, ha fatto vedere ottima prestazione, ottima performance. Poi il numero 4 di Great Feeling, poco a inizio 2021, ha solo quattro corse dove fa vedere un po' poco. La Guira invece sta correndo bene, dicono, ha chiuso il preestivo con belle piazze, rientra con buone chance. Su Light Enters mettiamo il punto interrogativo. Taiki ha fatto comunque una buona parvenza sulla pista, prova una categoria più bassa e chissà se proprio il contesto non gli permetterà di mettersi in luce. Ha esordito meglio nella seconda corsa con cui è andato in pause The Best Ever, che ritorna in pista e noi abbiamo proprio lasciato il nostro microfono. Questa è uscita una vendita molto qualitativa e un po' aperta a tutti, spicca il cavallo capellone, è un cavallo che ha frequentato contesti molto più impegnativi di questo, secondo me è il cavallo da battere. The Best Ever è la prima volta che corre in sabbia, ha lavorato bene il cavallo, però è una corsa molto aperta perché c'è la Guira che sta correndo bene e poi, non lo so, questo cavallo di Figarra, Doctor Crazy, è un cavallo che sta venendo molto avanti. La terza competizione è il premio Alberto Sordi, è un handicap, 1800 metri in pista sabbia alla distanza, il tracciato da affrontare con cavalli di tre anni e oltre. Anche qui non c'è nessun tre anni, partono dai quattro anni di bala, tic tac che è un po' il punto interrogativo, ha una corsa soltanto qui a Silacusa in cui è registrato poco in carriera e l'altro quattro anni è il numero tre di Magic Timing che è subito esordito facendo un buon secondo posto e dimostrando che può ancora migliorare. Attenzione poi a Rusalca, sempre quattro anni, sempre sul podio prima dello stop, ma mai a Siracusa sui 1800 metri in pista sabbia e questa sarà la sua scommessa. Apre però il numero uno di Laguna Drive, il vecchione di dieci anni, resta comunque pericolosissimo, poi Spy Story che comunque viene temuto, attenzione a nonno Alfonso che rientra in lunga in sabbia e buona linea ha il numero sette anche con Magic Timing, Capitan's Herder che può ben comportarsi. Ha smesso di correre a metà luglio, adesso rientra, vedremo con quali prospettive. Sentiamo su questa competizione, il fantino Daniele Scalora impegnato con il numero tre di Magic Timing e ancora la voce fuoricampo di Enzo Guerrieri. Magic Timing che è rientrata benissimo, ha fatto un secondo posto. Sì, il cavallo è rientrato in secondo con un pesone, ricorriamo sette giorni, il cavallo è tornato bene nella corsa, secondo me può ricorrere. Spicca Laguna Drive è un cavallo il vecchione della corsa, cioè ha dieci anni ma lui in questi contesti si è sempre tendenziato. E poi mi piace pure Spy Story per le linee che ha. Qualche sorpresa in questa competizione? Secondo me la sorpresa può arrivare da questo due Baltic Tac. Sì, a me qua il cavallo che piace è Spy Story, che secondo me è un po' superiore a questi. Poi c'è il vecchio Laguna Drive che dice sempre la sua, è un battagliero e dirà sempre la sua. Come terza alternativa c'è questo Magic Timing che mi piace a me. La quarta corsa è il premio Nino Manfredi invece è la competizione che come vi dicevo ad inizio programma ha il montepremi più interessante, 9.900 euro e impegna cavalli di tre anni e oltre sui 1.300 metri in pista sabbia. Anche qui un tre anni contro tutti è Elmwood che è il punto interrogativo, lo mette sul tracciato in sabbia e la prima volta sentiremo a proposito il fantino Daniele Scalora. Poi invece i più attenzionati restano Playful Dude che è persosi dopo gennaio 2021, è un cavallo di mezzi, se si è ritrovato dopo la pausa è attesissimo. Soprattutto Valle Bel che si adatta al confronto è una validissima alternativa, Amadigi che ama il pesante, su questo contesto sembrerebbe addirittura il cavallo da battere e potrebbe inserirsi, fiducissimo Stefano Postiglione, Exo Ticque che deve scrollarsi questo quarto posto di Dosso che prende sempre in curriculum da quattro volte, rientrata benissimo Cicaloca però deve confrontarsi con una categoria superiore, quindi i punti interrogativi che avevamo posto sul tracciato in sabbia per Elmwood e Letoianni che comunque piace parecchio è Bentley Mood che a inizio esordio in Siracusa fece bene proprio su corta distanza e sabbia e Enzo Guerrieri lo ripropone con stima. E allora sentiamo Enzo Guerrieri il proprietario e il fantino Daniele Scalora. Si corre sempre in sabbia, è un problema questo? No, perché la maggior parte dei partenti di questa corsa sono tutti che fanno o il pesante o la sabbia, per cui è uscita bene una bella corsa, sono 8 partenti e con disparità di peso diciamo che è riuscita bene questa corsa. Partiamo dal basso e partiamo dal numero 8 a salire. Beh diciamo che questo cavallo Bentley Mood, il nostro, ha lavorato bene e con questo peso penso che dirà la sua. Peraltro vedendo il curriculum ha fatto bene su corta distanza e all'isordio? Sì, il cavallo però ha trovato il terreno pesante, lui diciamo che fa il pesante meglio, il duro non lo gradisce tanto, infatti poi ha fatto un secondino per mancanza di avversari sul duro però non è il suo forte. Per me il cavallo ci sta alla grande per il peso che ha, poi quei cavalli che fanno il pesante sono Valle Belle, Playful Dutti, questi di Cuschieri. Se poi ritorna a farci vedere chi ama, dici dovrebbe vincere questa corsa onestamente. Ci sono piccole alternative anche giù, tipo Cicaloga si è comportata bene al rientro, ti piace? Sì ma questa è un'altra categoria, Cicaloga questa categoria già diventa una cavalla giusta, normale, però dice sempre la sua perché appena scende poco poco di peso di categoria vince facile. Ho messo due punti interrogativi sul 6 e sul 7, restano tali oppure? Beh a dire beh a me i tuoi anni mi piace tanto e fa pure la sabbia, l'ho visto lavorare e lavora bene, secondo me un pochettino gli va un po' corta la distanza, questo è l'unico problema del cavallo. Che il cavallo poi vada bene questo te lo posso assicurare. Tu sei su Nelmwood, punto interrogativo proprio sulla sabbia? Sì il cavallo è la prima volta che corre in sabbia, Brancato mi ha detto che ha lavorato bene, però non lo so, cavalli che spiccono qua a Matigi, 60 e mezzo in quest'indica per il cavallo da batte. Quale è il belè, idome perché è una cavalla che sta avvenendo da due successi consecutivi e sta trasversando un bel periodo di forma e poi mi piace questo tic perché hanno messo i parocchi. L'ultima corsa a chiudere il convegno di domenica a Siracusa alle 21.20 è il premio Anna Magnani, è un handicap di minima, 1100 metri, velocissima distanza da percorrere in pista sabbia. In questa breve competizione sono 7 al via, apre il numero 1 di Infrarosso, buon rientro e può migliorare ancora. Common Black che anche se ha pagato il rientro potrebbe comunque visto i suoi mezzi e la sua potenzialità sempre essere pericoloso. Attenzione alla novità, San Blas ne parleremo con Daniele Scalora, quindi Easy Lady che ha approvato un rientro a luglio 2021 senza buoni risultati, vedremo in che condizioni si ripresenta. Poi Song of Experience che chiude giugno vittorioso sui 1200 metri, terzo arriva Iubris regolare, potrebbe comunque recuperato appunto il periodo estivo, essere della partita. E poi ha fatto Baluan che dà meno chance a Giuseppe Brancato che non appunto Song of Experience. Allora sentiamo Daniele Scalora che presenta questa novità, il numero 3 dello schieramento. San Blas è una novità? Sì, la prima volta che corre qua sul tracciato, un cavallo lineare, un cavallo che spinka Song of Experience, un cavallo che viene dall'ultima vittoria sui 1100, messa bene anche in Berizzi. E poi mi piace anche con Mon Black, togliendo l'ultima un po' paga, però un cavallo che in questo handicap si è sempre evidenziato. Non mi resta che ricordarvi l'appuntamento con il Galoppo domenica all'ora 29 agosto dalle ore 19.15 per le 5 corse in programma. Arrivederci.